Un problema nel sistema informatico, una disattenzione che è costata cara a chi si è trovato domenica pomeriggio a parcheggiare a Viareggio. I parcometri della Moveri infatti non sono stati aggiornati, il cambio di stagione è così rimasto bloccato nel sistema informatico della società Viareggina che gestisce la sosta all'interno delle strisce blu, così ad esempio alle 14.30 la macchinetta che serve per pagare il parcheggio, recava come orario le 13.30, 60 minuti di differenza tutta da disputare al cambio dell'ora, da solare a legale. L'orologio del parchimetro non ha evidentemente registrato l'aggiornamento, a causa di questo disguido molti cittadini che hanno parcheggiato nelle zone delle strisce e anche molti turisti hanno dovuto pagare il doppio rispetto al previsto, insomma per i parcometri viareggini una domenica da fuso orario.